ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi. ANSA Police, il fatto politico del giorno. Una petizione con mille firme e personale la sveglia al PD chiedendo di anticipare il congresso a gennaio. Questa è la novità di oggi sul fronte del Partito Democratico in attesa dell'Assemblea di domani. Non esiste che la nuova leadership si manifesti a marzo, spiegano le promotrici dell'iniziativa, tra cui Alessandra Moretti, Alessia Morani, Valeria Fedeli e Titti Di Salvo, perché siamo a un momento di svolta per i destini del PD e noi non ci rassegniamo alla paura di perdere la nostra casa e non accettiamo di vederla ridotta in macerie. Ma il rischio che la situazione peggiori in effetti esiste. Domani l'Assemblea dovrebbe votare le modifiche statutarie necessarie per attuare il percorso verso il congresso che prevede le primarie per il 19 febbraio e l'apertura agli esterni. E in Assemblea serviranno almeno 500 voti per approvare le modifiche allo statuto. Un rischio alto. Se non ci si dovesse riuscire, in molti temono che Enrico Letta getti la spugna. E questo complicherebbe ancora di più le cose in casa PD, una casa in cui non c'è più pace da dopo la sconfitta elettorale di settembre. Ma andiamo con ordine. Per chiarire un po' il quadro ci facciamo aiutare da Paolo Grassi, il collega appunto dell'ANSA che segue ormai da tempo il Partito Democratico. Gian Paolo, che cosa ci si deve aspettare davvero dall'Assemblea di domani? Che cosa potrebbe succedere e che rischi ci sono? Come in tutte queste occasioni, le ultime ore saranno quelle definitive. Quindi ci sono delle trattative in corso fra le varie correnti del PD per arrivare ad una soluzione domani. L'obiettivo è anticipare la data del congresso, cioè delle primarie, che adesso è fissata per il 12 marzo e che dovrebbe essere anticipata almeno al 19 febbraio. Questo significa cambiare tutte le regole che lo statuto prevede per lo svolgimento del congresso. Quindi si troverà una sintesi molto probabilmente che l'ETA domani illustrerà l'Assemblea. Se la sintesi è stata trovata e se c'è stato un accordo verrà stabilito quando ci saranno queste primarie, quindi se il 19 febbraio o addirittura prima, e quale sarà il percorso per arrivare a quel momento. Quindi chi si potrà candidare, in quali modo, quali forze potranno partecipare, se le forze esterne al PD potranno partecipare, con quali modalità. È tutta una discussione in corso e la sintesi arriverà domani in Assemblea. Senti, e per quanto riguarda i nomi invece che si fanno per le candidature, appunto abbiamo visto anche oggi questa intervista dell'Hatch Line, tu pensi che questo continuo cercare un leader, un segretario da proporre molto prima dei tempi di cui abbiamo parlato, possa in qualche modo complicare le cose? Io penso che ci sia all'interno del PD una volontà di arrivare presto, al momento in cui ci saranno dei nomi che si confrontano. E questo per avere una chiarezza su quale sarà il dibattito, su quale sarà il futuro del Partito Democratico. E anche per avere un po' più appeal rispetto agli elettori, che si appassioneranno molto di più ad un dibattito dove c'è uno scontro, un confronto fra nomi che non quello che c'è adesso un po' fumoso, fra idee che però non si agguantano con grande facilità. Senti, oltre a questa previsione del Congresso, all'Assemblea di domani ci sono anche altri due tamicaldi che affliggono il PD in queste ore, come quelle delle regionali. Ci puoi sintetizzare cosa sta succedendo in Lombardia? Insomma, mi sembra che la situazione si sia abbastanza chiarita. Però, insomma, che cosa ci dici? Quali possono essere le prospettive anche per il Lazio, alla luce anche dell'appello che rivolge Calenda in queste ore, dicendo cerchiamo di vincere almeno una regione? Insomma, ci puoi spiegare un momento? Dunque, in Lombardia il centrosinistra si presenterà con due candidati. Il terzo polo, se si può chiamare, se si può dire che fa parte del centrosinistra, avrà Letizia Moratti, mentre il PD ha indicato Maiorino. Maiorino è un'apertura al Movimento 5 Stelle, cioè il PD spera che anche il Movimento 5 Stelle possa conveggere su Maiorino. Il dibattito è in corso. Se converge il Movimento 5 Stelle potrebbe uscire più Europa, che ha detto noi o loro. Sinistra italiana invece ci dovrebbe stare. Insomma, Maiorino c'è, bisogna capire quale sarà la coalizione che lo supporterà. Per quanto riguarda Lazio invece c'è D'Amato, che piace sia il terzo polo e sia il PD, e dovrebbe essere lui il candidato, a meno che il PD non sia tentato ad aprire di nuovo al Movimento 5 Stelle, che però non vuole D'Amato per la questione del termovalorizzatore. Ed è qua che interviene Calenda dicendo abbiamo un nome, andiamo avanti con questo, non facciamo di nuovo confusione riaprendo i giochi e rimettendo tutto in ballo. Anche perché le regionali dovrebbero essere il 12 febbraio e quindi insomma i tempi sono abbastanza stretti. Senti, ma in tutto questo Enrico Letta che fa? Si dimette o no? Tu che hai capito? Ho capito che lui vuole fare traghettatore. Cioè lui si è già dimesso dal segretario del Partito Democratico, ha detto che non si ricandiderà e che vuole guidare questa transizione nella maniera più serena possibile. E penso che parlare di maniera serena nel PD sia uno simoro, però lui ci sta provando. Grazie.